le note del silenzio scegliamo spesso ultimamente i video o comunque scegliete cosa vedere prima e interagiamo molto di più lo zoom è di ritorno a differenza degli altri video perchè comunque vorrei alternare i due microfoni allora andiamo a parlare di serie tv subito prima proprio per questo vi faccio vedere una maglietta fantastica che già su instagram avete visto questo è Walter White protagonista di Freaking Band ho scelto un cover protagonista diciamo di The Big Bang Theory e Jon Snow di The Game of Thrones questa è una maglietta di Pampling e avete sempre il mio codice sconto ancora valido del 15% e comunque trovate tutte le info giù e mi sembrava carino mettere questa maglietta super nerd e fantastica per questo video allora detto questo direi che possiamo partire con il video allora appunto mi avete chiesto voi di parlare di serie tv andiamoci ad accompagnare come promesso dalla copertina da questo slime verde smeraldo che si intona anche molto con i colori della maglietta o rilassatevi oppure ascoltatevi o rilassatevi oppure ascoltatevi questo è uno slime di Tiger che mi ha comprato da mia mamma proprio per girare i video eccolo qua penso di non aver mai girato un video con lo slime io non so scegliere una serie preferita ce ne sono troppe di serie che mi piacciono a partire da quelle adolescenziali come che ne so gossip girl che amo la follia o friends o non lo so cioè serie strafamose ma ci sono appunto delle serie che nonostante siano vecchie io riguardi a giro posso dirvi che sto guardando attualmente the crown su netflix ecco vi parlo delle serie netflix the crown mi sta piacendo è un po' lenta è è una serie storica sulla la vita della regina elisabetta a partire da prima della sua incoronazione sto scoprendo delle cose che non sapevo di lei e tra l'altro ho iniziato a vedere questa serie e l'ho scoperta perchè molti di voi mi hanno detto che ricordo l'attrice questo mi musica perchè secondo me lei è bellissima di un'eleganza impressionante claire foie foie penso ed è vero trovo che mi somigli un po' soprattutto per la fronte alta il colore degli occhi e manca un po' la forma del viso e bella mi sta piacendo sono all'inizio della seconda stagione sempre su netflix ho visto due serie cioè entrambe spagnole e la casa di carta la casa di carta è in assoluto una delle mie serie top andate a guardare la casa di carta su netflix mamma mia cioè l'ha fatto impazzire e quella serie me l'ha fatta mi ha convinto a vederla la mia carissima alessi smr channel e mamma mia mamma mia è una delle mie serie preferite in pratica ormai lo saprete tutti ma si tratta di una di una banda di rapinatori che non sono tutti i rapinatori sono dei delinquenti diciamo così riuniti sotto la mente eccezionale del fantastico professore che praticamente appunto li riunisce tutti questi poveri poveri personaggi per fare un colpo alla zecca di stato spagnola non vi dico altro perché detta così può sembrare anche poco efficace boh vai cioè mamma mia e poi mi piacciono da morire i personaggi e il mio personaggio in assoluto proprio il mio personaggio in assoluto è Denver si è iniziato a vedere ora la serie aspettate di andare avanti perché i personaggi come in molte serie evolvono e lui evolve parecchio all'inizio vabbè e ci sono due serie della casa di carta stanno facendo la terza e ho visto che una parte è girata a Firenze adoro bellissima cioè azione è molto cervellotica ed questo mi piace ed è piena di colpi di scena poi un'altra serie Netflix spagnola che mi è piaciuta molto è Elite mi è piaciuta davvero tanto mi ha stupito mi ha stupito come queste serie spagnole siano belle cavolo e allora così come The Crown anche Elite dovrebbe essere originale spagnolo e Netflix e ve la consiglio assolutamente in pratica nonostante sia ambientale sia molto adolescenziale ma solo perché i protagonisti lo sono affronta dei temi molto molto scuttanti molto attuali molto importanti come la discriminazione razziale o religiosa come l'omosessualità insomma veramente tanto la droga tante cose però non è una serie bisantone parla cioè affronta questi argomenti e fa riflettere bellissima mi piace ambientata in una scuola di lusso Elite per cosa si chiama così e il tutto gira intorno all'omicidio di qualcuno e la storia si sviluppa intorno a questi ragazzi alcuni molto ricchi e alcuni cioè non ricchi proprio per niente ricchi che si ritrovano in questa scuola che fanno nuove amicizie nascono degli amori nascono degli intrichi molto particolari molto particolari e e diciamo che si intreggiano le vite di questi ricconi ricconi insomma di questa gente benestante molto benestante e di questi altri tre ragazzi le loro vite si incrociano tantissimo e e e niente insomma non saprete chi è stato ucciso fino all'ultima puntata in cui vedrete chi ha ucciso chi e non che dico cosa dico dimenticate ciò che ho detto sapete subito chi viene ucciso nella prima puntata ma non capirete perché fino all'ultima e succede davvero di tutto quindi evitate di fare le supposizioni all'inizio della serie perché no c'è una sola serie per il momento ma si sta preparando la seconda ovviamente visto come è andata a finire bene io ho parlato tantissimo penso che invertirò decisamente le parti di questo video e preferisco parlare delle serie Netflix in principio poi passare alle serie che ho qui sulla paglietta quindi passiamo adesso a questo punto a parlare delle serie più storiche come quelle che vedete qui Breaking Bad è una delle mie serie preferite in assoluto e ve la faccio davvero corta perché è famosissima in pratica è un professore di chimica che al quale viene diagnosticata una brutta malattia che non sarò qui a dire perché è un canale smr non mi va e una malattia che tutti conosciamo ed in pratica gli vengono dati pochissimi pochissimi non ci ricordo sei giorni o mesi di vita e ha delle cure molto costose da fare quindi decide insieme ad un suo ex alunno jesse che io adoro che è il protagonista anche lui di mettere su un laboratorio all'inizio ambulante di metanfetamina non vi dico altro è ricca di colpi di scena molto spesso è un po' cruda soprattutto mi viene in mente adesso una puntata però è molto bella trovo molto bello il significato che dà questa serie molto spesso anche se ovviamente parla di droghe quindi io non sono favore alle droghe tipo alvetamina ma comunque mi piace davvero tanto è bella però è il mio personaggio preferito non è Walter White quindi lui bensì jesse senza dubbio è jesse come al solito non so se vi capita in genere i miei personaggi preferiti in film e serie tv non sono mai protagonisti è incredibile ok sto registrando allora parliamo della seconda serie che vedete sulla maglia che è The Big Bang Theory completamente un altro genere e in pratica i protagonisti almeno nelle prime serie non faccio spoiler ovviamente in questo video ho dimenticato di dirlo perché voglio rilassarvi lo scopo è quello si parla principalmente di quattro scienziati così si può dire tre più uno in realtà tre scienziati e un ingegnere mi viene da ridere è comica è comica una serie comica perché non la conoscesse fa veramente ridere e sono quattro personaggi davvero fuori dal mondo quello che mi è piaciuto molto sono fisici dire il vero e tre fisici e un ingegnere mi viene da ridere perché chi segue la serie sa perché mi viene da ridere quanto specifico che uno dei quattro è un ingegnere e non un fisico ricapitoliamo sono due fisici un fisico di cui uno fisico sperimentale un astro fisico e un ingegnere ed in pratica il tutto ruota intorno alle vicende poi si aggiungono delle ragazze ovviamente e wow scusate mi sono auto rilassata con questo visual trigger ed in pratica appunto tutto ruota intorno alla loro vita amorosa sono molto impacciati e il bello di questa serie è proprio che porta un argomento così particolare come la scienza la fisica all'interno della quotidianità è stupenda è davvero comica ma è anche molto intelligente trovo e molto spesso wow molto spesso tratta cioè molto spesso anche le battute che fanno non sono affatto semplici io lo trovo molto molto cioè io non solo io molto molto simile a Friends come in pronta sono tutti molto molto legati molto amici io amo questo slime lo sto amando in questo momento e ecco Friends è una delle mie serie cult per esempio la so memoria e non so se a voi piace e ovviamente fatemi sapere quali di queste serie conoscete se siete ancora svegli o se vi va di commentare quali di queste serie scusate sono veramente presa da questo slime quali di queste serie avete visto parliamo poi della terza serie tv sulla maglia cioè il trono di spade sono davvero molto combattuta su questa serie perché nonostante io l'abbia guardata tutta e aspetto con ansia l'altra stagione che sta per uscire la prima serie non mi è piaciuta affatto perché l'ho trovata troppo cruenta troppo aggressiva e a me le cattiverie gratuite penso che la vita sia già abbastanza penosa a volte non ci sia bisogno di aggiungere troppa enfasi a volte però dalla seconda in poi mi piacciono davvero gli intrighi i giochi di potere trovo poco cioè non mi piace molto un po' questa sorta di 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 indirizzo non dico magico ma fantascientifico che ha preso nonostante io adori la fantascienza i film di fantascienza però mi piace molto la seguo non sono un'appassionata ecco mentre Mentre The Big Bang Theory e The Walking e Breaking Bad le amo un'altra serie che mi è scappata dalla bocca e che o stasera o in questi giorni devo recuperare è The Walking Dead che ora si è notevolmente cioè peggiorata soprattutto adesso vabbè per chi la segue siamo arrivati a metà di questa nona stagione se non sbaglio e hanno fatto una cosa che io proprio vabbè è infastidito altamente diciamo che un personaggio che all'inizio non amavo per niente e che beh non dico quale personaggio altrimenti spoiler ce l'hanno fatto andare via io vabbè però era ora di portare una ventata di freschezza alla serie quindi hanno fatto un grande cambio in pratica The Walking Dead per chi non lo conoscesse è è una serie tv che molto apocalittica diciamo di azione avventura nella quale i pochi esseri umani che sono sopravvissuti devono fare i conti con degli zombie in pratica che sono in realtà esseri umani e molto pericoloso perché se si è morsi graffiati dagli zombie si diventa come loro ve l'ho detta veramente corta corta diciamo che questi esseri umani che sopravvivono formeranno dei gruppi alcuni buoni alcuni cattivi succedono tante vicende mi è piaciuta tantissimo soprattutto le prime quattro cinque serie io spero che questo video vi sia piaciuto che vi siate addormentati o comunque rilassati e se siete ancora svegli e ne avete voglia fatemi sapere quale di queste serie che ho linkato preferite consigliatemi qualche serie tv insomma aspetto davvero i vostri commenti fatemi sapere anche se questo slime vi rilassa a me tanto vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo martedì con il prossimo video ciao grazie